I lavori cominceranno fra qualche settimana, abbiamo avuto ieri un incontro con la città metropolitana e con la ditta che dovrà fare i lavori e intanto noi abbiamo organizzato orari e quant'altro per dare un regolare inizio agli alunni del De Bottis che sicuramente il 13 settembre avranno il loro primo giorno di scuola come tutti gli altri ragazzi delle altre scuole. Piano scolastico provvisorio al liceo classico Gaetano De Bottis di Torre del Greco. Secondo quanto comunicato e stabilito da città metropolitana di Napoli il primo piano dello storico edificio di Viale Generale Carlo Alberto dalla Chiesa nelle prossime settimane infatti sarà interessato da attività di riqualificazione messa in sicurezza degli ambienti superiori. Abbiamo ipotizzato un doppio turno, le ore saranno di 50 minuti, questo per non gravare troppo sul tempo scuola e i ragazzi entreranno il biennio con alcune classi del terzo linguistico nella prima fascia orario quindi 7.45, 11.55 poi alle 12.15 ci sarà il secondo turno e quindi per i ragazzi del triennio sia del classico che del linguistico che usciranno alle 16.25. Una serie di interventi tuttavia che rientrano nelle ordinarie e consuetudinari attività di controllo ed efficientamento in ambito di edilizia scolastica messi a punto dall'ente metropolitano ma che non denunciano alcuna condizione di pericolo grave o imminente della struttura così come chiarito ai nostri microfoni dalla dirigente scolastica Letizia Spagnuolo. Non è che è nato un pericolo imminente per il De Bottis, questo sia ben chiaro, sono stati fatti a fine luglio dei controlli per la messa in sicurezza delle scuole, quindi l'hanno fatto in tutte le scuole e da questi controlli è venuto fuori che c'è solo il primo piano, perché è solo il primo piano, quindi aule ed uffici e laboratori che vanno messi in sicurezza ma non ci sono state crepe, non ci sono stati... è diciamo normale amministrazione da parte della città metropolitana di fare di controllo per la messa in sicurezza delle scuole di propria competenza. Per quanto riguarda i tempi c'è una idea di massima almeno sulle prime battute? L'organizzazione ovviamente è tarata su brevi periodi, noi non abbiamo ancora un cronoprogramma dei lavori e quindi in merito alla tempistica dei lavori magari possiamo rivedere un'organizzazione diversa. Però quello che abbiamo concordato con la ditta, e questo è un aspetto molto positivo, è che si farà un blocco di lavori alla volta. Questo significa che libereranno alcune aule e quindi immediatamente possono essere utilizzate queste aule. Questo ci consentirà di alleggerire sempre di più il tempo scuola per i ragazzi perché avremo man mano delle aule a disposizione per essere utilizzate. Grazie. 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 Grazie.